ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video vlog barra chiacchiericcio come schiacchiericcio ecco finalmente di schiacchiericcio come state spero bene io sto bene e niente innanzitutto volevo dirvi che finalmente sto facendo un nuovo video come piace a me e come mi vedo meglio io oddio non so se questa luce va bene anche se posso dire potremmo cominciare da prima ed ecco allora la luce non è il massimo però insomma ci ho provato ma non è il massimo la luce dovrei prendere un po' la finestra ma si senterebbe lo sacco di rumori schiamazzi e non va quindi bene niente perché queste inquadrature fanno veramente pietà boh allora ok vabbè e niente quindi cosa dirvi bello come sono state in tutti questi giorni bene diciamo mi sto dando la pazza gioia di guardare i vostri video non tutti perché andrà non metteranno a fare altre cose mi piace anche prendermi cura di me infatti la mia pelle penso che stia migliorando quando sto prendendo cura di me quindi vedrete un sacco di recensioni sui prodotti che sto utilizzando adesso questo video solamente vi parlerò un po' con voi e come mi sto passando il gelato in casa a pulire casa adagiarmi un po' adagiarmi una parolona più che altra di cosarmi e poi continuerò con i soliti video pg che diceva la vlog certo non riesco fuori di casa perché vergogna un po' di nuovo voi direte di nuovo questa vergogna sì perché sono piuttosto mesi ma direi anche più di mesi anni che non registro più blog fuori di questa sede è vero fuori casa mia quindi un po' di vergogna ce l'ho non so perché ma ho vergogna tanta vergogna non perché gli altri potrebbero portarmi e vedermi in modo strano che c'è il telefono e mi riprendo mentre sto parlando con voi ma perché altro perché non ci prendo non c'è più presa la mano a registrare video fuori da fuori di casa o vabbè non lo so poche volte non riprenderò quali i miei soldi video ma non permettono nulla di come dire nulla di che di concreto diciamo è verità e niente quindi che dirvi se non guardo sempre dritto da questa parte sto guardando giù ma perché vedo che il cavalletto è troppo posizionato in una maniera veramente bruttissima lo so che la telecamera è pessimo come io ho messo la la cinepresa cioè le inquadrature sono scene ma me le può fregare meno quindi niente oggi comunque non sono uscita perché appunto sto facendo le faccende di casa e quindi non me la sono sentita anzi adesso ho un po abbandonato oggi le faccende di casa perché mi andava di guardare un po di barbara palombelli forum chi non lo sa di voi se non mi seguite su instagram fatelo perché io lì su instagram sono non molto attiva non appena e pubblico intanto altre storie di cosa sto combinando a casa quando non esco di casa cosa tutto faccio quindi se mi va mi metto non so da che parte vabbè ve lo dico direttamente nell'info box mi chiamo youtube per me la lettera che non va sotto così lo scrivo e non vi metto né a strada niente solo il nickname di come sono su si su instagram e niente sembra seguitemi se no pace non non fa niente non importa comunque anche su tik tok sono melania beauty makeup quindi seguo anche lì come su facebook anche stesso non miglioro stesso non miglioro stesso nome mi chiamo melania beauty makeup oppure sul profilo personale no perché ne ho già tanti ma se volete seguimi seguitemi pure tanto anche o altre ragazze youtube che mi seguono su sul profilo personale perché guardate io pubblico più video sul profilo personale che non solo sul pubblico sul profilo pubblico non solo personale ma anche quello della mia pagina facebook anzi solo da un po senza pubblicare i video della mia pagina personale non personale quella di bellezza sarebbe anzi tra poco mi devo fare queste unghiette che ho perché sono non dico brutti da vedere però antestrittiche quindi vedete me lo devo rifare da capo ecco qua che si vedono sì che si vedono niente allora c'era oggi un po fa schifo perché non è che volete che fa schifo non è non è bellissimo per niente è un po cupo nuvoloso dove si aveva dato piucia ieri stava piovendo stamani non era da meno perché anche stamani per carità di dio ds se sentite rumori strani di sottofondo è perché stamani non sto guardando che cosa terramara si terramara so che siete fan alcuni di terramara e io me lo guardo è un assurdo perché troppo bello adesso ho fatto un'eccezione perché sto registrando questo video chiacchiericcio su youtube sul mio canale youtube e niente dunque se sentite dei rumori strani probabilmente non so dove più di cosa che allora da una parte abitano i nostri vicini dall'altra pure sotto non viene nessuno c'è sotto sopra non viene nessuno ma sotto neanche la mia camera nell'appartamento di giù c'è gente che ogni tanto sentono i cani abbagliare ma tutto nelle normalità tutto a posto posso dire tutto è normale non fate problemi se sentite rumori strani al video perché abito in una casa a tre piani quindi voi non voi sono c'è nessuno perché mia mamma non ha affittato né niente anzi tra poco non so come si metterà la situazione non vuole dire cose mie private della mia famiglia quindi evito però preferisco abitare di dirle perché sono cose mie personali anzi cose nostre personali ed evito di dirle comunque si stanno per dirle e avete ragione non bene che non le dico meglio che mi taccio meglio che taccio che è meglio comunque è così allora ragazze mie si no sto guardando se l'intanto apra la porta meno una mamma cioè no sto guardando la terra amara io posso continuare a costituzione niente mi ha preso appunti dei vostri video di come posso ristrutturare il mio canale ristrutturare una parola ma più che altro prendere spunto ai vostri video e e portarla anche sul mio canale youtube ovviamente senza troppe pretese perché io sono di quelle dalle tante pretese ma devo imparare ancora nella mia vita a non pretendere troppo né dagli altri ma ne soprattutto manco da me stesso perché se no così non vado avanti se pretendo troppo da me stessa ma che dagli altri non va bene come sto sul dire chi va sano va lontano come si no chi va piano va lontano e scrivetemi quali 7 commenti se non dite come si dice perché io con i proverbi ci sono e non ci sono come si può dire sì quando sono dal vivo mi ricordo ma non sempre siamo capiti comunque se me li ricordo e non mi ricordo comunque sì quando sono nella vita reale mi ricordo ma non sempre vabbè un po' un scioglie lingua strana questo proprio questi proverbi che ogni tanto mi viene voglia di dire mi viene voglia di dire ma non ci riesco vabbè niente io non lo so perché questo telefono fa così è nulla allora prossimo video vi vorrei recensire tanti prodotti si sono sempre gli stessi ma non ci posso fare niente e li voglio recensire comunque niente ragazzi un bacio e a presto anzi che dire dopo questo video ce ne sarà un altro se mi ricordo di registrarlo ma sì sicuramente a dopo ciao